Perfetto Qualcosa Oh, è entrato È detto Cosa sta facendo? Spam 200 di nuovo Ma di nuovo Finalmente sono uscite le skin dell'universo di Naruto E oggi andremo a vedere uno dei fight più esplosivi e più attesi della community Raga Naruto contro Sasuke Fatemi sapere nei commenti se vi piace Se l'avete shoppato e mi raccomando Diego trattina abusivo nello shop Devo dire che sono fatte veramente bene Noi conosciamo i players Però censureremo il tutto Perché sarà Sasuke contro Naruto Due player fortissimi Quindi fatemi sapere nei commenti per chi ti fate Io tifo Sasuke raga Mi piace molto di più Io Naruto Ok io tifo Sasuke Spero che in futuro mettano altre skin dedicate agli anime Perché raga sono tanta roba Poi in cel shading sono fatte veramente da dio come ho detto Comunque 3 2 1 Let's go La mappa non c'entra niente eh Perché è la mappa di The Avengers Però è bella Tompi è veramente inutile Tompi non vede gli anime Bello Bello 34 Gli ha potuto far 34 Oh ma devi usare la tecnica dei mille falchi Ma dove è andato? Ma perché? Sì ha fatto le mille cadute Ha fatto la moltiplicazione delle cadute Ha fatto Naruto Eh un po' del Rasengan pure te Da sotto Naruto No niente raga non gli va Comunque a parte gli scherzi È una bella sfida È una sfida epocale È una sfida epocale Che tra l'altro Ah beh non possiamo dire niente No non possiamo dire Sono bellissime Sono fatte stra bene Non possiamo dire niente Poi ho la grafica al minimo No no non è Cosa? 4 Oddio Oddio Sasuke va in vantaggio E fa anche il pagliaccio Perfetto Per il secondo round voglio osservare Naruto Raga Sono fatte un po' peggio di Ninja Storm secondo me Vabbè vabbè Ninja Storm è dedicato solo a Naruto Però per essere su Fortnite sono fatte veramente bene 3 2 1 let's go Io i giochi li ho mangiati Su P60 Ah a me sembra più skillato E più veloce però Naruto eh Farà Rasingham Vai fa qualcosa E poi comunque Sasuke ha fatto solo 34 34 poi c'è Sì e poi ha fatto un 107 finale Sì che che sai Questa è la tecnica dei 100.000 falchi Fra Cioè quanto gli ha fatto Cioè porco tu che italia Ma troppo fra Troppo Gli ha fatto 166 Porca miseria Con un hit 66 ok 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 Naruto Naruto Ma io dico Sasuke Ma perché devo dire Naruto Cioè ma che me Vai Sasuke Porca miseria Ha fatto bene Vai Sasuke Raga Uuuuh 200 Ma questo era un Mega Rasen Raga Chi vince vince le Build Fight Poi si andrà in pubblica Chi farà più kill 3 2 1 Let's go Let's go raga Osserviamo di nuovo Naruto A me è piaciuto Io tipo lo spettacolo Avete visto cioè Ti ho detto Sasuke però No aspetta Deve vincere Sasuke adesso Ok No 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 Sì deve vincere No non rompere Bello bravo Sasuke Bella hit Sasuke Ma Più skillato ma Ma c'è qualcosa Meno solido C'è qualcosa che non va Qualcosa Oh è entrato È detto Cosa sto facendo Spam 200 Di nuovo Ma di nuovo Ma cosa stiamo dicendo Ma vedi che Naruto è troppo più forte Io lo sapevo Lo sapevo No ragazzi E vince Build Fight così Naruto Senza senso E vince così Vince con due 200 Molto senso Molto senso Va bene raga È giunto il momento della pubblica È giunto il momento della pubblica Raga guardate pure il bus A tema Naruto Cioè bellissimo Vale gnaveria Tutte e due insieme Ok giusto 2 versus squad Meglio farmare Meglio farmare Ok che sono Naruto e Sasuke Ma sempre meglio farmare Comunque Già il pompo Sasuke Mentre Naruto Oh Basta il pompo E sta posto È appena droppato Come appena droppato Che significa Eh sì c'è un bug del gioco Non ti fa scendere No raga Veramente L'Epic Games Sta mettendo skin per guadagnarci Però non aggiorna il guarda Non aggiorna il bug Ci sono ancora lì zombie C'è ancora la cosa di Halloween Che cazzo Dai Oh Naruto Ma è un bot Dai Naruto No Prima kill per il nostro Naruto Ok ok Una kill per Naruto Ma Sasuke Sasuke coacchio fai Ancora che sta farmando Ha pure il pompo Ha pure il rampino Potrebbe busciare di più Questo è un problema Sasuke deve trovare qualcosa raga Eccolo Bot 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 Dai Un altro bot Spiegati Non confermare Spiegati Finisci l'altro Su Su Ricordiamo raga squad Ma ci sono altri Ci sono altri Quindi passano in vantaggio Vai vai Ma come è merito Sì 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 No Siamo 2 a 2 Ok 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 Va bene Hanno ucciso i bot Il team dei bot Dai ci sta Raga che tra l'altro La squadra becchi sempre i bot qua Sempre a questo punto Faccio caso Almeno 2 team li becchi Ma sempre a questo punto però Come cura è messo meglio Sasuke Perché anche gli shieldini Diciamo L'altro si sta portando le granate Vai Sasuke Vai Ma perché manco scende dalla macchina Sasuke Dacci È comodo È comodo Raga è Ugovo Ci aspettiamo Ugovo quello Sasuke State attenti eh C'è uno spazzo L'ho sentito uno spazzo raga Sì Hanno anche appena riportato 31 Puscia attento Bello 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 è tuo È bello è tuo Sasuke Sasuke Io pure metto a attivare Sasuke D'è tuo Ugovo Però dai Lui è anche fan Fan accanito di Naruto Quindi dovrebbe saperne Che la dovrebbe portare avanti E poi è pure amante di Sasuke Ha detto eh Bello 31 Perché non gli è andato di pompa Perché è andato di R Comunque tutti che spazzo Raga che è diventato Ma questo non è Naruto È Dragon Ball Gente che vola Si trasporta Oh Ahahah Già polizini No raga Mi sto sentendo male Mi sto sentendo male Con la volpe a 9 code 26 No raga C'è qualcosa che non va comunque Sasuke Con i danni oggi eh Ok Si è fatto un'altra kill Vediamo vediamo Che purtroppo volevo censurare Raga ma non si vuole censurare Come ho detto nel Oh Attento Expo Expo da che sei forte Expo che sei forte Ugovo Da pad Detto Sasuke Allo spazzo Fra No Oh mio dio Sta per morire È morto forse Deve correre ripari Deve scappare Ha fatto bene Ora ha lasciato Sasuke da solo però Questo è il problema 2 kill Naruto 3 kill Sasuke È ancora full Sì Sta pure lo spazzo Dove giocarsela bene Oh devi vincere Oh bello Ma comunque questi sono tosti Più che altro eh Sono rompiscato Perché si chiudono in continuo Si chiudono di continuo Lui si è praticamente ripullato Ancora il pompa verde La R è bianco Sto povero cristiano Cioè guarda Guarda Naruto Come sta messo male In tutto L'ho visto L'ho visto Toglio il buon kill Oddio Oh bello Sasuke again Un'altra kill Ok ora può prendere il pompa blu Naruto Cioè il pompa blu è tutto Potresti un attimo Perché il verde ancora No niente Non gli frega niente Non gli frega niente Non gli frega niente Ho preso i materiali E poi uno è Sakura o sbaglio Raga Un'era Sakura Uno è Sakura Non lo so Uno è Sakura È entrato Bellissimo Che ha fatto Eh però c'è preso lì È entrato con le Oh Su Eheh Eheh Su Allora 5 A3 5 a3 Per il nostro Sasuke Raga porca miseria Ma perché non funziona il guarda Ma anche se Serviva a censurare Invece adesso Avete scoperto che sono Che tristezza Che sono questi due botte Che sono questi due botte Perché non funziona il guardo L'epigames rovine video Rovine video Non voglio più registrare questo gioco Parca broia Naruto vuole recuperare Attento Quanti sono Quanti sono Naru Mi sembra uno Sta scappando Sasuke Sasuke Cattivissimo Ok sta andando Oh 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 Non c'è Chi ci vuole ha? Deve recuperare le kill Deve rischiare anche Ma quanti sono? Sono almeno tre Almeno tre 94 Bello Si è preso lì però Stai attento Guarda la Sasuke Scappa Oddio è morto È morto Ma come è scappato? Ma perché È scappato malissimo No ma perché È scappato storto E niente Finisce qua la sfida 72 Eh se muore Ha vinto comunque No Il signore Sasuke Eh ha vinto Sasuke Ok però Se lui Allora ma sono due kill Per recuperare Se fa due kill Il problema è che è uno Versus quattro E non ha tanti materiali Non è neanche Tanta vita Buono buono Si vuole coprire del tutto Ma perché non rompono del lato? Non sono i più furbi Del mondo È anche lui Ha fregato l'ultimo colpo Per andare ancora A properi safe Sì appunto Non ho capito sta mossa Ho da rimanere dentro Questo era il momento giusto Chiede un altro team È finita Non so perché ha fatto questa mossa qua comunque Perché è exp? Perché? Espe è scarso Perché? Secondo te Allora possono parlare ora Era più bello naturalmente C'era tutta la lore Sasuke contro Naruto Dovamo cambiare nome Però non potevamo cambiare nome Era un casino Porca miseria Io odio l'epic Ragazzi io odio l'epic games Comunque lì smuto Possono parlare? Allora exp Perché questa mossa Ti ha rincoglionito? Naruto non l'avrebbe mai fatto Perché? Ho qualche dubbio Mi sono posizionato da schifo E volevo volare via E cercare di prendere dei mazzini E Ukovo Perché hai fatto quella mossa di merda Si è saltato dritto per aria? Dicevo che mentre stavo ricaricando il lancia granate Mi sono storto con la visuale Quindi sono saltato male Ma tu sei storto? Comunque Comunque ho vinto No siete pari Siete pari Tra Naruto e Sasuke un pareggio Tra Naruto e Sasuke un pareggio Tra Naruto e Sasuke un... E vabbè è stato bravo Ho avuto un'ottima mera E' stato bellissimo E' da pure clipato Mamma mia Mi mancherà il ramen sopra di lui Ho avuto un'ottima mera